Appena pochi giorni fa il video postato dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli di un lupo che si portava via la sua preda. Tutto secondo natura, ma la scena era stata ritratta poco lontano dal centro abitato nei pressi di Viale Bartolomeo della Gatta. Poche ore fa un episodio ben più grave, sempre in Valdichiana, a Vitiano, un lupo ha ucciso la cagnolina di una famiglia che abita in località Palazzina. Era uscita dal portone di casa e se l'è portata via l'abbiamo ritrovata morta la mattina dopo qua vicino, raccontano i proprietari al Corriere di Arezzo. Non viviamo più tranquilli, prosegue il racconto, il lupo era già venuto una ventina di giorni fa al mattino ed eravamo riusciti a farlo scappare agitando la zappa. L'altra sera ha zannato la nostra cagnolina che per noi era come una componente della nostra famiglia. La natura dovrà pur fare anche il suo corso, scriveva appunto il sindaco Mario Agnelli pochi giorni prima, ma questa presenza della fauna selvatica anche nei pressi dei centri abitati non può lasciare indifferenti tutte le autorità preposte. Anche il caso di Monte San Zavino, dove un cinghiale ha distrutto la porta di un parrucchiere, sicuramente fa pensare. E' un'altra sera che non può lasciare.